E bimbe, stiamo lavando la macchina di Mami che era un po' sporca Ed eccola qui Siete pronte? Volevate entrare, vero? Volevate stare dentro la macchina Io quando ero piccolina restavo sempre dentro l'auto E poi la puliamo un pochino dentro, va bene? Adesso ricarichiamo la carta e laviamo la macchinina Anni, la metti tu la tesserina? Seleziona lavaggio per lavare la tua auto Ricarica per ricarica E valessamente i soldini Ma non li vuole Ah, anche le monete dentro Io non ne ho tanta fame stamattina Fine? Aspetta, aspetta, aspetta che non le ho ancora lette Ah, sì, le ha lette Credito lesivo 22 Fine? Prego Se desideri la ricevuta Prendi il sì No Meno carta, meglio per l'ambiente Cosa sta succedendo? Stanno per partire le spazzole e il lavaggio della macchina La facciamo diventare pulita questa macchina oggi? Sì E poi gli interni chi li fa? Noi Siete sicure con queste facce? Non è che me li devo fare io come sempre? No O li facciamo fare la mamma? Faccio io Li fai tu? La macchina è mia, la pulisco io Devi pulire il vetro dentro, interno Mi aiuti anche tu però Va bene Grazie E i tappetini li facciamo fare a loro? Sì Oh, è partito, eh? Andiamo a vedere davanti quando gli insaporano il muso Cosa succede? Arrivano gli spruzzi? Vai papà William Facciamo il bagnetto anche a loro Ancora un pochino più indietro, bambine Ancora un pochino Arrivano gli spruzzi di schiuma? Guardate, bimbe Volete farlo anche voi? No Vi volete spazzolare i capelli? Grazie Asia Veniamo qua a spazzolare i capelli domani mattina Veloce veloce Ragazzi, siamo quasi, è quasi finito Yeah, ci siamo Wow, la bracchinina è quasi pulita perfettamente Finalmente direi anche Ora tocca lavarla dentro, eh? Velo scianto Velo scianto? Velo scianto? Eh sì, il compro ci dice che cosa sta facendo Lavaggio con il balsamo Allora ti può lavare i capelli Può andare? Non so se c'è anche il balsamo, eh? Ma anche se no sono più profumati Eh sì, eh? E sono un pochino a boccato Allora se esce il lavaggio con il balsamo Ci chichiamo tutti, anche noi, eh? Va bene? Sì, così è l'occhi, sì Sarà liscia Sarà liscia la bacchia Non avrà neanche un nodino No Ah, che facciamo i tappetini? Va bene Poi hai andato a prendere i gettoni per aspirare E adesso tu vuoi fare i tappetini? Ah, sì Si possono lavare i tappetini? No, non vattene No? No, vattene lì Ma insieme Dove c'è scritto Io mi ricordo che c'era qualcosa si potessero anche lavare No Ah, non li hai ancora presi? Sì, metti la Ah, andiamo, bene Vieni Cosa devo fare? Allora, penso che tu debba mettere i gettoni qua dentro Anche io Vado? Anche uno Non fai ne mettere uno anche lì Ah, sono arrivati i gettoni E un euro Un euro? Allora prova a rimetterlo Siamo arrivati? Sì Sta mettendo la cera, eh, ragazzi Qua viene fuori che è nuova Cosa vuoi dire cera? La sta lucidando Così è tutta È tutta bella Allora è tutta lucida Tutta lucida anche te Asciugare 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 Belline Bravissime Vediamo che papà sta arrivando con la macchina super pulitissima E andiamo ad aspirarla E andiamo ad aspirarla Sì Sta arrivando papi? Mettiamo Sta arrivando Eccolo 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 Lucica Ha visto? È luminoso papà adesso Eccolo qua Mamma mia Mamma mia Cappellini Dai Attenzione alle macchine I gettoni Non ci vuole il gettono No Tieni Ah Vediamo Ani come si fa Più grosso di te amore Brava Sì Con cattiveria Adesso davi quello a lei Che è un pochino più piccino Tieni E' un pochino Ti sei presa quello grande Altro come te Brava Vane Quanto polvere Poi dovete fare la doccia Addio Guardate Sei Bravissima Vanessa Ani Venite E vi faccio dire una cosa Che bella Gli piace? Sì Gli piace? Sì E la mamma gli piace? Molto Questa è la moto del papà Che la ferma da dieci anni Abbiamo deciso di tirarla fuori dal garage Così ve la facciamo vedere Perché non l'avete mai vista La moto del papà Ma dov'era? Era della nonna In garage Bellissimo Quando è nata Vanessa Il papà era la più usata Eh sì E oggi ho pensato Ma perché non tirarla fuori dal garage Della nonna Dagli una bella pulita Esatto E farla ripartire Esatto Abbiamo fatto tutti i controlli Della moto E adesso possiamo provare ad accenderla E vedere se parte Va bene? Dopo dieci anni che ferma Siete curiosi? Sì Eh? Allora Vanessa di qua E Anastasia dall'altra parte Allora attenzione Attenzione Quindi in tutto si gira la chiave Ok Ci siamo? Ok Poi questo tastino qua Rosso deve essere schiacciato qua Lo vedete? Sì Il tastino rosso deve essere schiacciato Ok Dopodiché si schiaccia la frizione Questa si chiama frizione Come si chiama Vane? Frizione E la si schiaccia tutta fino in fondo Va bene? Mmh Dopodiché Guardate Si va a schiacciare questo tasto qua Dopodiché Non si fa nulla di quello che papà vi ha detto Perché altrimenti Finita contro il muro Mi raccomando Non dovete mai accenderla Mai Va bene? Se papà va a fare una piccola commissione Ok? Ok E dopo mangiamo Va bene? Voi guardatela quanto volete Non toccatela per accenderla D'accordo? Mi raccomando Vanessa? Mmh Mi raccomando Sì Va bene Ciao Ciao Vado a cucinare Perché altrimenti oggi non prezziamo più Mi raccomando Cosa vi ha detto papà di noi? Cosa fa E quindi voi? Non la? Siamo Bravissime Vado eh Vane Vai Ani ci sono le chiavi della moto Il papà ha detto di non toccarla Ma a me non me ne frega niente E allora accendiamola Ma a me io non mi ricordo che testo dovevo accendere Tutte le riparte Prima si deve girare l'occhietto Ok Sì Questo Poi Ok Poi Eh Passo un po' la piccola Ok Poi Questo Ah 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 Ti spegni così Famine Ma è arrivato papà Ho sentito una moto Ma no no è passata una moto Va bene Se lo tu mi vuoi Allora io tu dobbiamo cucinare Mi raccomando Non fatevi male Sì sì Oh Aline Non ci hanno beccato Hai visto Ci avevo ragione io Com'è andata Ciao Bene Ah sono qua la chiave della moto Ma non è che l'avete accesa Assolutamente no No Bravi bimbe Dai Andiamo a mangiare Dai Dai Per un attimo Papà non ci beccava Proprio Vieni un attimo Ok Dimmi cosa c'è Ma la moto è calda Ma l'ha accesa qualcuno Ma guarda Per un attimo Mi è sembrato di sentirla accesa Però loro mi hanno Rassicurata Dicendomi che Era una moto Che passava per strada Quindi tu pensi Che l'abbiano accesa Ma figurate Ma va Sarà il sole Ma infatti Dai vengo a mangiare Eh Papà William Ha fatto venire Un dubbio Dicendomi che la moto Era accesa Secondo voi Le bimbe hanno acceso la moto Se vi siete accorti Che le bimbe hanno acceso la moto Scrivetemelo per favore Nei commenti In ogni caso Vi faccio vedere una cosa Noi abbiamo le telecamere Che puntano Esattamente Dove c'è La moto Quindi Potrei tranquillamente Visionarle io Adesso vi faccio vedere Dove sono le telecamere Vedete cucciolini Qua c'è la moto E qua in alto C'è la telecamera Quindi non mi resta Che andare a controllare Ok ragazzi Sono pronta Ho intercettato La telecamera E adesso Facciamo partire Il video No ragazzi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti